e si parte da via valilla 65 insieme a santa claus santa angelo non santa claus non si sentirà niente perché già lo so che con la moto non si sente niente va bene andiamo andiamo a far i regali e la gente buon natale audio jump audio jump audio jump audio jump siamo arrivati a monte silvano ebbene sì con un sacco di gente che ci saluta e noi salutiamo a tutti quanti buon natale no a a a a o Buon Natale!